... Famiglia Principe 1968, io e mia sorella ancora qui a custode di questa tradizione gastronomica che ci contraddistingue da diversi anni. Nello stesso posto dove abbiamo iniziato, oggi con il nostro cognome, damo lustro e importanze ai miei genitori e a nonne e a nonna. Il 15 di agosto siamo aperti a pranzo, anche se è lunedì siamo aperti. 14, 15 e 16, da Famiglia Principe venite a degustare la palatella, classica, cameos e cabraciolo. Pina cabercocco e sta bene!